La colonia di Stambecchi presente abitualmente nell'Alta Valdala è diventata ormai una ricchezza anche turistica oltre che ambientale che il comune di Balme vorrebbe in qualche modo valorizzare da un punto di vista turistico permettendo a tante persone di poter vedere questo spettacolo della natura. Per questo si vorrebbe mettere in piedi un progetto che permettesse magari di sistemare alcuni percorsi che consentano in tutta tranquillità e in assoluta facilità di percorrenza di poter vedere da vicino questi animali così particolari, così spettacolari che pur non essendo in un'area protetta vivono estremamente vicini all'uomo e ai centri abitati.